Una barca da Formula 1, il barra Honda, per una collaborazione che viene formalizzata oggi a Gorizia nella sede di confrattigianato. Tecnicamente che barca è il barra Honda? Il barra Honda è un progetto di German Freire, il progettista di Luna Rossa per intendersi di Prada, per cui uno dei primi progettisti del mondo ci ha progettato su nostra richiesta questa imbarcazione super tecnologica. È un'imbarcazione di 40 piedi, tutta in carbonio e titanio da pesi leggerissimi, di conseguenza, e performance altissime. Quando è stata creata? L'imbarcazione abbiamo cominciato a pensarla nel 2000. Adesso è tre anni che stiamo regattando qua in Golfo, ottenendo anche risultati abbastanza positivi, non ultimo i settimi assoluti della barcolana di due anni fa. Abbiamo regattato in Italia, in Croazia e in Slovenia perché siamo stati richiesti sul circuito internazionale, date le performance che fa questa barca. Perché nasce il barra Honda? Da che idea? Il barra Honda è nata da una mia idea, perché io navigo dall'età di 16 anni, per cui da tantissimi anni, e a un certo punto ho voluto fare una sfida per fare una barca unica. Per quanto riguarda la collaborazione con Confartigianato, questa è conseguente alla collaborazione con due aziende di Confartigianato della provincia di Urizia, vero? Sì, io ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare il vicepresidente Giuliano Grandene, appassionatissimo di Vela, per cui ci siamo incontrati nell'ambito della Vela. Da lì abbiamo cominciato prima una collaborazione di dialogo e poi l'imbarcazione, avendo bisogno sempre di essere assistita in modo molto particolare da delle aziende per ottimizzare sempre l'imbarcazione, abbiamo cominciato a fare una collaborazione con la carrozzeria di Giuliano Grandene e con l'azienda di Medeotto, che è il presidente della Confartigianato. Da lì abbiamo cominciato a creare questa collaborazione tecnica, molto tecnica, direi, con queste due aziende. Che sarà, diciamo, Prodroma ad altre collaborazioni, si spera? Ma guarda, noi cerchiamo di portare l'immagine di Gorizia in giro per il mondo, siamo l'unica barca di alto livello che ha Gorizia. Speriamo da Goriziano di poter essere affiancato in questa sfida verso le altre barche, da altre aziende, oltre a quelle che già ci sopportano tecnicamente. Questa barca da Formula 1 dove vorrà? Vuole regatare? Ma noi regatiamo nell'Alto Adriatico, regatiamo in Slovenia e regatiamo in Croazia. Prossimo anno puntiamo a fare i mondiali, che si saranno a Mugia, e puntiamo a battere il record della 500, che è una regata che parte da Caola e va fino alle 3 metri e torna indietro. Piccolo particolare, le altre barche le fanno in equipaggio noi le faremo in due soli a bordo. Quindi è tecnologica al massimo? Sì, è al top. E la vedremo alla Barcolana? Alla Barcolana saremo presenti, anche con il nuovo piano velico, fatto apposto per questa regata qua. Avremo sulle figi delle aziende che hanno collaborato alla nostra casa e naturalmente il confrattigianato di Gorizia e monteremo la bandiera grande a 20 metri d'altezza, così tutti la vedranno. Vicepresidente, che collaborazione è questa qua? Una Formula 1 per la Formula 1 degli artigiani? Beh, se possiamo dirlo così, anche sì, nel senso che la collaborazione iniziata con un rapporto amicale con il buon Lucio, armatore di Barahonda, si è trasformata poi in una collaborazione tecnica, nel senso che questa barca molto performante e molto tecnica ha bisogno di pezzi singoli, di lavorazioni singole ed eccellenza. Per cui noi, le nostre aziende, abbiamo iniziato così con un rapporto abbastanza blando perché c'era relativamente giovane. Però noi possiamo costruire ad hoc, con la professionalità e con la fantasia che abbiamo, i pezzi che a Barahonda possono servire. Per cui è una produzione fatta per un prototipo, non ci può essere una produzione di serie per una barca così. Per cui abbiamo fatto appunto il pezzo singolo. Quindi si può dimostrare che per certi pezzi non occorre dare né all'estero né fuori provincia ma restare a Gorizia o provincia di Gorizia? Ma guardi, certamente perché alla fine la professionalità e l'eccellenza Gorizia e la provincia, la sua provincia può vantarla senz'altro. Anche perché i nostri artigiani non è che sono isolati nella loro professionalità. Anzi, hanno contatto con tutta Europa, anche perché qualcuno fornisce addirittura aziende oltreoceano. Per cui noi possiamo essere all'avanguardia su tutti i campi. Lei andrà sulla barcolana, sulla barca, sul Barahonda? Lucio mi ha invitato molte volte per motivi diversi non sono riuscito ad andare. Forse perché peso pochissimo, allora non do la stabilità. Però ci conto ad andare se non altro alla presentazione della barcolana che noi ci saremo con tutto lo Stato Maggiore.